Cari amici della televisione di Quotidiano.net, bentornati per parlare delle elezioni amministrative al Comune di Bologna. Flavio Del Bono, candidato del centro-sinistra, è il nuovo sindaco di Bologna. Succede a Sergio Cofferati. Un commento a caldo insieme con Pierluigi Vici, direttore del resto del Carlino di Quotidiano Nazionale. Buonasera Pierluigi. Buonasera Xavier. Grazie di essere insieme con noi. Allora, qual è la tua valutazione? La valutazione è molto chiara. La vittoria di Flavio Del Bono sembra molto larga e doveva essere una vittoria al primo turno. Già l'essere arrivato al ballottaggio è stato secondo me un incidente di percorso che è stato ovviamente colmato con il secondo turno. È possibile che la vittoria più larga al secondo turno e la non vittoria per pochi voti al primo turno sia stata anche la conseguenza di una maggiore vivacità nel fronte contrapposto, dove il centro-destra e il mondo del civismo bolognese aveva presentato due personaggi di peso come Alfredo Cazzola e Giorgio Guazzaloca. Al ballottaggio è mancata una parte significativa di questo mondo e probabilmente sarà mancata la parte di chi non si sentiva più tanto entusiasta di partecipare e mi riferisco agli elettori di Guazzaloca che pure aveva invitato a votare per il candidato Cazzola. Ecco quindi il direttore del resto del Carlino dal suo osservatorio privilegiato come commenta anche l'incidenza se c'è stata o se non c'è stata dei veleni dell'ultima settimana che si sono scambiati due candidati insegnatamente ovviamente Cazzola e Del Bono che comunque invece ha trionfato. Ma io devo dire anche come giornale noi ho fatto un commento sulla vicenda e non ho enfatizzato questa vicenda sostenendo che noi abbiamo bisogno di un sindaco che amministri la città soprattutto dopo i cinque anni deludenti e dir poco della gestione di Sergio Cofferati, persona che io personalmente stimo, un politico di razza, un politico di valore ma che probabilmente il terreno amministrativo non era la sua cifra. Per questo abbiamo bisogno di chi riporti Bologna a un livello di civiltà amministrativa come l'ha avuta in passato, sicuramente fino a almeno fino a cinque anni fa. Detto questo, tutta questa vicenda della Cinzia Gate, dei viaggi e di tutto quanto è uscito nel corso dell'ultima settimana di campagna elettorale, sapevamo benissimo che non avrebbe inciso. Abbiamo riportato anche un'autorevole opinione come quella del professor Mannheim che ha spiegato come queste cose possono semmai portare una frangia più ampia di elettori all'astenzionismo, perché magari un po' infastiditi, ma non portano voti, sicuramente non portano voti a chi ha subito l'attacco, ma non li porta neanche a chi lo ha sferrato. Credo che il dato lo confermi. Ultima domanda al direttore del quotidiano nazionale, non può che essere sul fallimento del referendum. Qual è la tua valutazione? Anche questo era molto scritto. Se guardiamo per esempio dati come quelle della regione siciliana, dove non c'era alcun altro tipo di elezioni e che quindi la partecipazione è stata assolutamente insignificante, dimostra come questo tipo di consultazioni se non tocca proprio la coscienza delle persone, dei cittadini, come è stato negli anni passati, nei decenni passati, anzi con temi molto forti come il divorzio, come l'aborto, evidentemente non toccano attenzioni. I referendum che hanno un forte contenuto tecnico come erano quelli sul nucleare o questo sulla legge elettorale hanno bisogno di talmente tanta mediazione da parte della politica che non toccano i cuori. Ringraziamo Pierluigi Vici, direttore del quotidiano nazionale del resto del Carlino e grazie a voi per averci seguito. Ringraziamo Pierluigi Vici